Andrea e Giuseppe da Mantova, Napoli Club Mantova, Mantova Azzurra. Mantova è piccolina, non racchiude tanti napoletani come residenti, però effettivamente ne contiamo 60, abbiamo una sede tutta nostra, oltre ovviamente a organizzare eventi sul sociale, è normale che seguiamo anche il Napoli, le trasferte, avendo una sede tutta nostra, ogni domenica facciamo vedere le gare del Napoli, sia quelle dei Cempi, praticamente seguiamo il Napoli a 360 gradi. A San Paolo ci andate? Sì, qualche volta, siamo un po' lontani, per noi la trasferta è proprio quella del San Paolo, quando il Napoli gioca in casa noi siamo in trasferta, quindi però seguiamo tutte le gare che il Napoli gioca al nord, quindi riusciamo, ce ne sono anche tante, sì sì sì, quelle là riusciamo a farle, ci organizziamo, abbiamo molta collaborazione con gli altri Napoli Club che sono aperti in zona, quindi riusciamo anche ad organizzarci con loro, con Pullman per andare tranquilli, effettivamente a Rosa, per arrivare allo stato tranquilli. Quindi dispiaciuti o contenti che l'anno prossimo la trasferta di Bologna non ci sarà? Dispiaciuta, dispiaciuti perché effettivamente era quella là dove andavamo anche numerosi, essendo vicini la maggior parte comunque di noi lavora anche le domeniche, quindi perché è molto il commerciale sul territorio mantovano, quindi le domeniche lavoriamo, quindi quelle vicine sono molto... È una trasferta divertente perché eravate numerosi, però visto l'atteggiamento dell'ambiente Bologna verso il Napoli, magari ci può fare anche un po' piacere che siano andati in Serie B. Era sempre piena, la curva San Luca era sempre piena. Non è a noi? Sì, proprio. No, effettivamente l'atteggiamento contro noi napoletani lo vediamo un po' da Bergamo, da Genova con la Sampdoria, quindi a Milano, quindi alla fine non è che ci ferma quello, l'atteggiamento delle altre tifoserie. Noi andiamo per la nostra strada, siamo effettivamente comunque il Napoli Club che vogliamo andare là tranquilli, andiamo con donne, con bambini, quindi non abbiamo problemi in questo senso qua, ci facciamo come si dice a Napoli, fatti nostri e guardiamo la partita. La verità sta sempre in mezzo, terzo posto anche quest'anno. Chi va davanti a noi? Ottimisti quindi. Sì, effettivamente. Beh, la Roma sta facendo una grande squadra, la Juve rimane comunque la favorita, noi siamo quella là che forse potrà essere la novità di quest'anno, vediamo un attimino, con gli innesti che sono stati fatti, effettivamente sono stati fatti dove avevamo più esigenze, manca qualcosa al centro campo, speriamo che arrivi presto e poi noi tifosi aspettiamo sempre il grande colpo, speriamo che arrivi presto. L'esperienza è sempre un valore aggiunto nel calcio, quello che è stato fatto l'anno scorso quest'anno sarà rifatto e quindi ci auguriamo che sarà fatto meglio, sarà un valore determinante? Quello sì, effettivamente noi abbiamo intrapreso un altro cammino con un altro mister, quindi un altro tipo di gioco, l'anno scorso è stata la puntata zero, detta proprio in termini televisivi, quest'anno ci aspettiamo qualcosa in più sul piano del gioco, ovviamente, ma il gioco comunque indipendentemente è stato bello anche l'anno scorso, è capire un attimino l'atteggiamento da usare con le piccole squadre, come il Sassuolo, come il Parma, che l'anno scorso ci hanno praticamente devastato, noi avevamo gioco praticamente, con le grandi eravamo una grande squadra, un bel gioco e con le piccole poi abbiamo deficitato parecchio. Aspettate autografi? Il pomeriggio fanno gli autografi, al termine della situazione di allenamento in genere, sia la mattina, in realtà il pomeriggio è più spesso. Dovremmo ridunciare perché abbiamo degli impegni a casa, quindi non possiamo restare... Devi stare solo oggi, solo questa mattinata? Sì, siamo quei turisti, diciamo che toccate fuga noi facciamo, ma sai, tipo un ritmo a padella, per dire, ecco, ci portiamo uovanine, cosa, pizza maccaruna, per fare un'impatriata, capite? Questa è un'occasione per tornare, perché sono tanti anni che siamo qua a Verona, però è un modo per tornare le nostre origini. A lei è piaciuta la nuova maglia? Sì, molto bella. Beh, perché hanno, non so, penso, le persone che scegliono le stelle maglie sono sempre molto oculate, sanno dove andare a toccare, secondo me, proprio i gusti del, di quelli che gli acquirenti, insomma. Io ce l'ho, non la indosso, ma a casa ce l'ho le magliette, ancora il cavallo, la vezzi, non ce l'ho più però. Sono più belle queste, che richiamano al classico, o quelle classiche per davvero quelle degli anni 80, oppure quelle degli anni 60? No, forse queste qua, perché hanno quel richiamo, però comunque sono moderne, con il materiale, quindi, quella che sta aderente al corpo, a una pelle, no? Così, più bella, insomma. Va bene. Ho visto poco, perché sono arrivato da poco, però io mattina e sera e pomeriggio, quando siamo tutto a Napoli, guardo, so tutto, diciamo, anche se poi non vedo... Anche se ero più in Italia, non ci... Sì, mi devo pure scaricare. Però, voglio dire... Scherziamo. ...giornato, è una cosa, è una certezza. Quegli acquisti che fa Benitez, secondo me, può avere la regia sua, diciamo, sono sempre prodotti che si può comprare a scatola chiusa. Sono dei giocatori che avranno delle qualità enormi, secondo me. Non ho mai sbagliato in acquisto. Perciò, fiducia cieca con gli acquisti del Napoli. Chi potrebbe arrivare, secondo lei? Sono tanti nomi. Come dicono loro, sono forse per... I nomi che fanno sono per depistare. Quindi noi, se diciamo dei nomi, diciamo solo sciocchezza, aspettiamo e lasciamo lavorare, secondo me. Un attimo, se ci fanno segno di spostarci. Ok, abbiamo il nostro amico che... Sì, siamo noi, siamo noi. Esatto, adesso facciamo questa tipologia nuova, facciamo questo tutorial, spieghiamo, cliccando su Speciale di Maro, si aprirà una pagina. Intanto complimenti al signore che ha un'ottima rete 3G, molto rapida. Quattro. Ecco, 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 si vedete. Adesso, schiacciando play. Cerchiamo di aggiornarci. Non vi fate incannare dalla barba bianca. Grazie. Signore, giovanile sprint. Schiacciando ancora una volta play. Dai, 4G. Eccoci qua. Ecco qua. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Siamo due scherzi a parte. La diretta nella diretta. Esatto. Tipo Madriosca. Grazie. Ok, siete arrivati, siete emozionati. Quali sono le sensazioni? Quali sono gli obiettivi oggi? Vi piacerebbe poter portare a casa un autografo o almeno una foto? Sì. Di chi? Di Insigne. Di Insigne. Il tuo calciatore preferito? Sì. E invece il suo? Insigne. Uguale. Nonostante comunque Lorenzo Insigne non abbia parlato durante la presentazione, comunque riesce a entrare nel cuore dei tifosi? Sì. Sì. Forse perché è il nostro paesano, ecco perché sono... Ah, quindi siete di fratta maggiore? Sì. Abitiamo tutti vicini in fondo, tutto il mondo è paese. Quante volte l'ha visto il Napoli nella sua vita? Dal vivo, dal vivo, ma anche da... In tv sempre, tramite la tele, l'ho sempre visto il Napoli. È una bella squadra, mi piace. Anche quest'anno con i nuovi acquisti, come le sei? Michu e Koulibaly. Ma, insomma, speriamo che faccio almeno un campionato migliore dall'anno scorso. Quindi, migliore dall'anno scorso, visto che ha vinto la Coppa Italia e visto che è arrivato terzo, quindi o si arriva primo o si arriva secondo. Quindi, è questo l'auguro che io gli faccio a Napoli. E invece potrebbe vincere un'altra Coppa? No, no, no. Lì è dura perché dal punto di vista internazionale, purtroppo, adesso attualmente l'Italia è al quinto posto. C'è prima, tra Spagna e il campionato inglese, francese, purtroppo c'è superato anche il francese, il tedesco. Quindi noi siamo in quinta fascia. Quindi la vedo dura, non solo per il Napoli, ma anche per le altre squadre italiane, a livello internazionale, di riuscire a vincere qualcosa. L'augurio c'è a Napoli come alle altre squadre. Purtroppo non c'è la mia, pazienza. Io e Milano, però il mio... Andiamo, scappiamo. Però il mio detto è questo, l'importante è che non vince l'Inter e la Juventus e il resto va bene tutto. In che occasione è stata indossata questa maglia? Il Napoli... Torino mi sembra. L'ha avuta direttamente dalle sue mani? No, dalle sue mani no, tramite un amico. Tramite, diciamo, sono stati degli intermediari. Cosa si prova ad avere la maglia di un campione come Guain? Satisfazione, dai, un po' di soddisfazione. È il suo calciatore preferito nel Napoli? Sì, no, sarebbe anche Amsic però. Amsic è comunque il capitano, Guain è il nostro bomber, come dire, il signore ha dei gusti abbastanza raffinati. Chi invece per il centrocampo, quali i suoi gusti dove la porterebbero? Su Mascherano. Continua ad avere gusti molto 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 raffinati, confermo. E invece per la difesa possiamo avere magari, non lo so... La difesa, beh, adesso siamo vissi a pesto, con i balini lì, spero che siamo vissi a posto. No, ma aspettavo che lei volesse un difensore tipo Piqué o Sergio Ramos. Non penso che tira fuori altri soldi adesso. Anzi, sarebbe anche giusto aspettare un pochettino la qualificazione prima per la Coppa e dopo fare delle scelte. Il Presidente da qualche tempo a questa parte ha sdoganato la parola Scudetto. I tifosi come... Sono un po' più confusi di questo, no? Ci crediamo? Io ci credo, però sarà un po' difficile, ma sperando. Anche l'impegno è importante, comunque ha detto lotteremo per lo Scudetto, quindi Napoli si deve impegnare. Si deve impegnare, sì, se no noi che ci siamo a fare qua? Noi siamo qua per loro, per lo Scudetto, per la Coppa. Magari ci fanno anche un po' di Champions, un po' più avanti dell'anno scorso. Ricordiamo che abbiamo un tifoso che è abbastanza esigente, quindi... Esigente, però io guardo in faccia la realtà. Se si può tentare, si deve tentare, perché se no vengono sempre gli altri. Noi a Napoli hanno messo degli striscioni ultimamente, no? Che sono stufi di fare da spettatori. E anche noi di qui al nord, perché noi abitiamo al nord. Lei di dove abita? A Verona. È di Verona? Sono napoletano. Napoletano, però vive a Verona. Ma com'è tifare Napoli a Verona? Una grande soddisfazione. Sì? Eh sì, forse, perché quando ci facciamo sentire ci sentono anche là, anche se è una battaglia sempre, tutti i giorni. Magari entrando nel bar, c'è un po' di... ci sono degli sfottò, perché comunque conosciamo la rivalità fra Napoli e Dallas. Sì, 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 si è sempre lo sfottò, però lo sfottò è allo stadio, in città, nei bar poco, anche perché dopo noi diffusi napoletani siamo molto seri al nord e loro ci conoscono. E dopo lo stadio si sfocano un pochettino, offendendo degli slogan... A volte è un po' in maniera pesante. Anche noi comunque, da Napoli. C'è del razzismo, diciamo, nel quotidiano? No, mia moglie... Possiamo smentire, diciamo, tutte quelle credenze, quelle voci che si rincorrono di come sia quasi un campo minato la città di Verona per Napoli? Lo smendisco categoricamente. Non c'è il razzismo a Verona, sì, lo sfottò, terrone, così, ma si dice in tutta Italia. Ma il razzismo veronese verso di noi non è mai stato razzista.